la camera numero 11 come non sapete perché hanno trasferito il primo presidente a mandon no neanche lui d'altra parte pare che l'abbia mai saputo ma è una storia divertente raccontatemela di certo vi ricordate della signora mandon quella bella bruna magra piccolina fine e distinta aperto i de longe la chiamavano tutti la signora marguerite sì me la ricordo state a sentire vi ricorderete anche come la signora mandon fosse rispettata bene amata e stimata in città era una donna che sapeva ricevere organizzare una festa o fare della beneficenza trovando denaro per i poveri distrarre i giovani con giochi sempre diversi era sempre molto elegante con una buona dose di civetteria ma una civetteria diciamo platonica insomma aveva quella graziosa eleganza delle migliori signori di provincia quel bel donnino una provinciale raffinata i signori scrittori di tutta parigi ci decantano in tutti i toni la parigina perché conoscono solo lei ma io sostengo che la provinciale vale cento volte di più quando è davvero una donna di classe superiore questa signora ha un modo di fare tutto suo molto più discreto delle smancerie della parigina più umile non promette niente e concede molto mentre le signore di parigi nella gran maggioranza dei casi promettono assai e una volta spogliate non offrono quasi niente la parigina è il trionfo sfrontato del falso la provinciale è la modestia del vero la piccola provinciale smaliziata con la sua arietta da borghese accorta il candore ambiguo di una collegiale il sorriso enigmatico e le piccole passioni scaltre e tentatrici deve mostrare mille volte più astuzie e sottigliezza femminile di tutte le parigine messe assieme per poter soddisfare i suoi gusti i suoi vizietti senza destare né sospetti né pettegolezzi né scandali nella piccola città che la guarda con tutti gli occhi a tutte le finestre la signora amandone era un tipo di quella razza rara un grazioso esemplare nessuno aveva mai malignato su di lei mai nessuno aveva avuto il sospetto che la sua vita non fosse limpida come il suo sguardo uno sguardo color nocciola trasparente caldo e così rassicurante alla vista lei si serviva in realtà ad uno stratagemma ammirevole genialmente ingegnoso eppure di incredibile semplicità sceglieva i suoi amanti tra ufficiali dell'esercito e si riteneva tre anni giusto il tempo del loro servizio di guarnigione in città non provava amore quel bel donnino viveva solo per la gioia dei sensi appena il nuovo reggimento arrivava per tuile longe dei assumeva informazioni su tutti gli ufficiali dai 30 ai 40 anni poiché prima dei 30 l'uomo è spesso chiacchierone e dopo i 40 non è più costantemente valido come amatore lei conosceva i quadri del reggimento altrettanto bene del colonnello riusciva ad essere informata di tutto delle abitudini intime della cultura delle qualità fisiche della resistenza alla fatica del temperamento paziente o violento dei beni di fortuna della tendenza al risparmio alla prodigalità poi faceva la sua scelta e questa cadeva di preferenza su uomini di calma e indole come lei purché fossero belli esigeva anche che non avessero relazioni sentimentali già note o che non avessero avuto in passato qualche passione difficilmente estinguibile o tale da destare scalpore infatti l'uomo di cui si raccontano le avventure amorose non è mai troppo discreto dopo aver adocchiato colui dal quale si sarebbe lasciata amare durante quel soggiorno triennale non le restava che gettargli il fazzoletto quante donne si sarebbero trovate imbarazzate quante avrebbero usato i soliti sistemi le vie comuni quante si sarebbero lasciate corteggiare predisponendo le tappe della conquista e della resistenza lasciandosi un giorno baciare il dita il giorno successivo il polso l'altro giorno ancora la guancia poi la bocca per concedere finalmente il resto lei aveva un metodo più spedito più discreto più sicuro usava organizzare un ballo nel suo salotto l'ufficiale prescelto era invitato alla danza dalla padrona di casa trascinata dal movimento rapido stordita dall'ebbrezza del ballo lei si stringeva a lui come per offrirsi stringendogli la mano con una pressione nervosa e continua se lui non capiva era uno sciocco e lei passava allora a invitare successivamente l'ufficiale che lo seguiva nell'elenco dei designati se invece capiva era una cosa fatta senza altre complicazioni vi era qualcosa di più semplice e di più pratico le donne dovrebbero usare un procedimento simile per farci capire che siamo di loro gusto questo sopprimerebbe difficoltà, eccitazioni, parole, movimenti, inquietudini, turbamenti, malintesi quanto spesso passiamo accanto a una possibile felicità senza accorgercene chi può infatti penetrare l'intimità del pensiero gli abbandoni segreti della volontà gli appelli muti della carne tutto l'ignoto di un'anima di donna la bocca della quale rimane silenziosa l'occhio impenetrabile limpido appena lui aveva capito le chiedeva un convegno lo faceva sempre attendere un mese o sei settimane per sorvegliarlo per conoscerlo meglio e rifiutarsi se avesse avuto qualche difetto pericoloso durante questo tempo lui si lambiccava il cervello per sapere dove avrebbero potuto incontrarsi senza pericolo immaginava combinazioni difficili e malsicure in una festa ufficiale lei gli diceva sommessamente venite martedì sera alle nove all'albergo del cavallo d'oro presso i bastioni sulla strada di Vusier e chiedete della signorina Clarisse vi aspetterò siate soprattutto in abiti borghesi da otto anni ella teneva in affitto una camera in quell'albergo poco noto dopo averla arredata a proprie spese era stata un'idea del primo amante che lei aveva trovato assai pratica aveva conservato il nido anche dopo la partenza di lui un nido mediocre quattro pareti tappezzate di carte grigia a fiorami turchini un letto di abete chiuso da cortine di mussolina una poltrona acquistata dall'albergatore dietro il suo ordine due sedie un puff e qualche oggetto necessario alla toiletta che occorreva di più? alle pareti erano appese tre grandi fotografie tre colonnelli a cavallo i colonnelli dei suoi amanti perché? forse perché non potendo conservare l'immagine diretta e il ricordo vivo aveva voluto conservare quelli di riflesso? e non era mai stata riconosciuta da alcuno nelle sue visite al cavallo d'oro? chiederete mai da nessuno il mezzo usato era ingegnoso e semplice aveva progettato e indetto una serie di riunioni benefiche e pietose alle quali si recava spesso il marito conoscendo le sue opere pie che gli costavano assai viveva senza sospetti stabilito il convegno diceva durante il pranzo dinanzi ai domestici andrò questa sera all'associazione per le maglie di flanella ai vecchi paralitici usciva verso le otto entrava un momento all'associazione ne usciva percorreva diverse strade poi giunta all'angolo oscuro di qualche viuzza senza lampioni si toglieva il cappello lo sostituiva con una cuffietta recata sotto la mantellina tirava fuori un grembiule bianco dissimulato nello stesso modo se lo annodava alla cintura e mettendo in una borsa il suo cappellino di città e la mantiglia che le copriva le spalle camminava ad un passo svelto ardito con i fianchi scoperti come una servetta che si recasse a compiere una commissione ed allora correva come se fosse sospinta da una grande fretta che avrebbe riconosciuta in quella figurina smizza leggera la moglie del presidente Amandone lunggeva il cavallo d'oro saliva nella camera di cui possedeva la chiave il grosso padrone Mastro Truvan vedendola passare dal suo scrittoio mormorava ecco la signorina Clarisse che va dai suoi amori egli aveva intuito qualche cosa scaltro com'era ma non cercava di saperne di più certo però rimase assai sorpreso più tardi venendo a conoscere che la cliente non era altri che la signora Amandone la signora Marguerite come si diceva in Pertuile Longe ecco come l'orribile scoperta ebbe luogo non era mai accaduto che la signorina Clarisse si recasse ai suoi convegni due sere di seguito mai 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 essendo troppo fine e troppo prudente per commettere un simile errore Mastro Truvaux lo sapeva bene perché da otto anni non l'aveva veduta mai ritornare il giorno dopo l'occupazione della camera così spesso accadeva che nei giorni successivi egli affittasse la stanza durante l'ultima estate il signor Amandone si assentò da Pertuile Longe per una settimana si era in luglio la signora che soffriva anche per altri bollori e sapeva che non vi era pericolo di essere sorpresi chiese al suo amante un bel maggiore di Varangel un martedì sera lasciandolo se desiderava vederla anche l'indomani lui rispose se lo desidero fu stabilito che si sarebbero trovati all'ora solita il giorno seguente lei disse sommessamente se arrivi per tempo amore mi attenderai coricato si baciarono poi si separarono l'indomani verso le dieci Mastotrouvaux mentre leggeva la gazzetta di Pertuile organo repubblicano locale gridò di lontano alla moglie intenta a spennare un pollo nella corte c'è il colera in paese è morto ieri un uomo a Fofigny poi non vi pensò più il suo albergo era pieno di gente e gli affari prosperavano verso mezzogiorno si presentò un viaggiatore il quale si fece servire una buona colazione dopo aver bevuto due bicchierini di assenzio poiché faceva assai caldo sorbì un litro di vino e almeno due litri di acqua ordina poi un caffè un bicchierino di liquore o piuttosto tre bicchierini chiese al fine sentendosi un poco intorpidito una stanza per dormire un'ora o due non venera che una sola libera e il padrone consultatosi con la moglie gli affittò quella della signorina Clarisse l'uomo vi salì ma verso le cinque non avendolo veduto di scendere trouvò andò a svegliarlo quale sbalordimento mio dio era morto l'albergatore lì scese in cerca della moglie di quel tale che ho messo nella stanza undici credo sia morto e l'alzò le braccia non è possibile signore dio che sia il colera mastro trouvò scosse il capo crederai piuttosto ad una congestione cerebrale è nero come la feccia del vino ma la moglie atterrita ripeteva non bisogna dirlo a nessuno non bisogna dirlo a nessuno tutti penserebbero al colera corri a denunciarlo e non parlare con nessuno lo trasporteremo stanotte per non essere visti l'albergatore mormorò la signorina Clarisse è venuta ieri la camera stasera è libera e andò in cerca del medico che venne a constatare il decesso avvenuto per congestione poi fu convenuto con il commissario di polizia che si sarebbe proceduto alla rimozione del cadavere verso mezzanotte da finché non si fosse sospettato nulla nell'albergo erano appena le nove quando la signorina Amandone scivolò furtivamente sulla scala del cavallo d'oro senza essere veduta da alcuno raggiunse la sua camera aperse la porta entrò una candela era accesa sul caminetto si volse verso il letto il maggiore era coricato ma aveva chiuso le cortine di mussola lei pronunciò nel silenzio della stanza un minuto amore e sono subito da te si svestì con una fretta febbrile gettando gli stivaletti per terra e il giacchetto sulla poltrona poi la veste nera e la sottoveste slacciata caddero in cerchio attorno a lei si drizzò in camicia di seta rossa come un fiore in boccio il maggiore non aveva risposto dormi ancora non ricevette risposta si mise a ridere mormorando guarda dorme è buffo al buio si tolse anche la camicia ma aveva ancora addosso le calze calze di seta nera traforate correndo verso il letto scivolò in fretta sotto le lenzuola afferrando con tutte e due le braccia e baciando a piene labbra per risvegliarlo ad un tratto il cadavere di accio del viaggiatore per un secondo rimase immobile troppo spaventata per capire ma il freddo di quelle carni inerti insinuò nelle sue un terrore atroce e ragionevole prima che il suo spirito avesse potuto cominciare a riflettere fece un balzo fuori dal letto rabbrividendo da capo a piedi poi correndo al caminetto afferrò la candela e guardò scorso un viso spaventevole che non conosceva nero gonfio con gli occhi chiusi con una smorfia orribile nella macella diede allora un grido uno di quegli stridi acuti e interminabili che lanciano le donne nei loro terrori e lasciata cadere la candela aprì la porta fuggendo nuda attraverso il corridoio continuando ad urlare un commesso viaggiatore in calzetteria che occupava la camera numero 4 uscì accogliendola tra le braccia chiese sbigottito che cosa c'è bella ragazza lei balbettò ancora atterrita hanno 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 ucciso qualcuno nella nella mia camera altri viaggiatori apparvero l'albergo stesso accorse poi l'alta statura del maggiore si profilò in fondo al corridoio appena lo scorse appena lo scorse lei gli si slanciò incontro gridando salvami salvami i Gontran hanno ucciso qualcuno nella nostra camera le spiegazioni furono assai difficili l'albercatore trouvò raccontò tutta la verità chiedendo si rilasciasse subito la signorina Clarisse di cui rispondeva personalmente ma il commesso viaggiatore in calzetteria esaminato il cadavere affermò che era stato commesso un delitto e convince gli altri clienti a impedire che fossero lasciati andare via la signorina Clarisse e il suo amante così dovettero aspettare l'arrivo del commissario di polizia che li rimise in libertà ma che non fu per niente discreto un mese dopo il presidente Amandong ricevette una promozione dal consiglio superiore della magistratura e la destinazione a una nuova sede di soltetto di soltetto a un mese di soltetto di soltetto di soltetto che vedi